Grazie veramente dal profondo del cuore perché capisco che non è facile stare qui, non è facile stare qui per tutta una serie di motivi, perché oggi, nelle stesse ore in cui siamo riuniti qui in questo locale, ufficialmente il partito al quale siamo iscritti, il partito nel quale militiamo, il partito nel quale crediamo, sta celebrando il momento più importante dalla sua vita, la celebrazione del congresso. In una provincia, il congresso provinciale è il momento più importante, il momento in cui si valuta, si fa il consuntivo di una linea politica, si valuta e si fa il consuntivo di una gestione, di un'attività svolta, si valutano e si fa il consuntivo dei risultati conseguiti e poi si tracciano le rotte del futuro. Si illustrano i nuovi programmi, la nuova progettualità, è un momento fondamentale della vita di un partito del congresso e mentre noi stiamo qui, il partito nel quale militiamo, nel quale crediamo, al quale siamo iscritti, sta celebrando il proprio congresso provinciale, che per la cronaca finirà tra un'ora e venti minuti, perché alle tredici, tre anni di vita politica, da quando cioè esiste il popolo della libertà, tre anni di battaglie politiche, tre anni di elezioni, tre anni di attività, si chiuderanno burocraticamente perché poi bisognerà passare a votare. Un partito che impiega quattro ore, io direi anche di meno, per fare tutto questo, per segnalare se stesso, per imporsi all'attenzione della pubblica opinione, per far capire quello che ha fatto e per dire quello che vorrà fare. Io forse sarò un po' screanzato se dico che se non ci fossimo stati noi, con questa nostra manifestazione, del congresso provinciale quotidiana non si sarebbe accorto nessuno. Quello che veniva chiesto e che è stato chiesto nei mesi scorsi, che io ringrazio, e non lo dico perché in qualche modo io debba ricambiare le parole di affetto e di stima che ha avuto per me. Io apprezzo molto quello che ha detto il professore Andropoli, il sindaco di Capua, quando ha portato il suo saluto, ma in realtà poi ha svolto l'intervento politico. Perché il sindaco Andropoli è stato il capofila di tanti sindaci che sul territorio non hanno detto se ne devono andare questi perché ci dobbiamo mettere noi. Non hanno chiesto l'avvicendamento delle persone. Hanno chiesto di partecipare alla vita del partito, di essere protagonisti del confronto al suo interno, di poter spiegare i problemi del territorio amministrato, le idee, i progetti che potevano mettere in campo e quindi ci sono fatti portatori di un'esigenza profonda, sentita, reale, di un cambiamento che non era tanto e solo nelle persone quando nella metodologia che altri ancora rimaranno nel pomeriggio, noi il nostro esame lo abbiamo affrontato e lo abbiamo superato. Adesso sono loro che devono dimostrare di avere il 99% e devono portare 16.000 persone, altrimenti sono venite così, altrimenti sono persone che hanno fatto un tesseramento sulla carta, ma quelle persone non esistono, che esistono solo nel rendimento totale e non esistono nella verità. Non sono di niente, non siamo come voi che siete finiti a dimostrare che esistono la possibilità. Ecco allora qual è il significato di un partito che non è solo questa, che non è solamente l'attempimento burocratico, che non è solamente la pratica da sbrigare, ma è qualcosa di più. È il partito che fa i battagli, è il partito che sa sintonizzarsi con il territorio, è il partito che sa discutere, che sa confrontarsi, ma è anche il partito che sa aprirsi. E fu la geniale intuizione di Silvio Berlusconi nel 93, quando capì che un certo modo di fare politica non convinceva più e che andavano trovate forme nuove. È il dibattito di oggi, terribilmente attuale, perché la politica oggi, non solo il PD, è anche il PD, anche persino l'Italia dei valori che si agita con quello sgrammaticato di Pietro a far finta in qualche modo di correre dietro le persone. Grazie.